Ma tutti ci stiamo chiedendo, ma il mercato della Juve, ma che fini fici, ma che fini ha fatto? Signori miei, il mercato della Juve attualmente è come se fosse contratto, bloccato, ma per quale motivo? Perché mancano i soldi? I soldi ci sono, il problema è un altro, non ci sono uscite. Quella di Ramsey è stata una cosa positiva, dove la Juve ora può andare ad inserire un altro tassello. Tutti ci chiediamo, ma sulla fascia sinistra, che cosa faremo? Ebbene, nella fascia sinistra, fin quando non esce Pellegrini o non esce Alexandro, siamo fermi in quella fascia. E non vi nascondo che può anche rimanere così, Alexandro ha un contratto che lo lega un altro anno e lui non rescinderà. È diversa la situazione di Ramsey, lo so. Tutti state pregando il più grande santo perché venga venduto Alexandro. Continuate a pregare che qualcosa forse cambierà. Ma prima di continuare a approfondire situazione Pogba, situazione centrocampo, situazione ovviamente anche in entrata il vice Vlaovic, fascia sinistra se esce Alexandro, chi arriverà? Bene, intanto vi invito ad iscrivervi ai nostri canali YouTube, BJ24 Live e Maglie del Cuore. Iscrivetevi ai canali perché voi che fate? Vedete i video e non vi iscrivete e fate i furbi. I furbi non li fate ragazzi, dovete essere cortesi con noi perché noi vi offriamo la notizia della Juve sempre fresca fresca. Lasciate un like se il video è stato poi di vostro gradimento e mi raccomando attivate la campanellina. Allora, dopo, signori miei, che c'è la sigla, approfondiamo la situazione. Ladies and gentlemen, Madame Messiae, signore e signore, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Eccoci qui, un giorno sì, un giorno, ma sto calcio a mercato in entrata, ma che fine ha fatto? Stavamo dicendo, intanto pensiamo a quello in uscita. Ma prima di entrare a argomento mercato, intanto parliamo argomento pull Pogba, quello che ha colpito un po' tutti, il suo infortunio. Pogba quando rientrerà? Attenzione, addirittura oggi ho letto che Pogba potrebbe anche saltare, forse i mondiali rientrare a gennaio, dipende di come sarà l'indità dell'infortunio, di come verrà l'intervento, ma occhio, voci che girano. Pogba intanto ha deciso di farsi vedere da un importantissimo luminare per vedere qual è la soluzione per rientrare prima possibile, e non nascondiamo, possibilmente Pogba fra un mese e mezzo, 30-45 giorni potrebbe rientrare. Ma rimaniamo fermi perché abbiamo perso un tassello che avevamo appena aggiunto. Tutti direte, e lo dicevamo, Pogba è finito, Pogba è rotto, signori miei, qui si tratta anche di iella, sfiga, sfiga, signori miei, neanche entra e si rompe questo venisco laterale. Con il laterale che cosa che sia? C'è solo da arrabbiarsi, speriamo che non diamo colpa ad Allegri e al suo staff, perché qui non c'entra veramente niente, qui c'è da andare all'urde, da andare a Međugorje, andasse a fare la doccia di acqua santa. Comunque andiamo avanti, situazione Pogba, signori miei, attualmente rimane così, bloccata, e rimaniamo tutti col fiato sospeso, sperando che rientri prima. Ora, una cosa che ci ha fatto un po' stare bene, sempre al centrocampo era Artur, che l'Arsenal aveva fatto un'offerta. Bene, vi posso dire che questa offerta dell'Arsenal non è stata mai fatta ufficialmente, e purtroppo per noi, perché tutti stiamo pregando alla Madonna del Carmelo che possiamo vendere Artur Melo. Purtroppo non c'è un'offerta dell'Arsenal ufficiale, però vi posso dire che c'è un interessamento di Mister Gattuso al Valencia che vorrebbe prendere Artur Melo in prestito pagando parte dell'ingaggio. I contatti sono avviati tra la Juve e il Valencia. Vediamo come finirà, vediamo se riusciamo con questa Madonna del Carmelo a mena a mandare in prestito Artur Melo. Situazione interessante che noi monitoreremo, monitoreremo a 360 gradi. Poi, signori miei, situazione vicevlawic, non vi nascondo che nomi sono tanti, si è parlato di Arnautovic, si è parlato anche di Firmino. Signori miei, avevo letto Firmino e della Juve, Firmino tutti, firmatevi tutti, perché attualmente non c'è nessun Firmino che sta andando alla Juve. Sono voci, sono suggestioni, suggestioni che parlo di un Firmino alla Juve. Attenzione, non ci facciamo prendere dalle notizie sparate, Firmino e della Juve. No, non c'è nessun Firmino alla Juve. La Juve sta monitorando bene, con attenzione, Morata. La Juve vede in Morata il vicevlawic, perché può giocare sia da esterno che anche da attaccante. I contatti con l'Atletico stanno continuando alla grande. La Juve sta premendo per fare scendere il prezzo. al signor Atletico Madrid, che è imbazzito, che voleva 35 milioni. Atletico Madrid, stai calmo. Perciò la Juve sta monitorando seriamente Alvaro Morata, che può essere il reale sostituto di il nostro Vlaovic. Che poi vi dico una cosa. Signori miei, il grande spolvero di Moissichenni, che può essere sempre il vicevlawic, arrivando Morata, può giocare anche sia da vice, come ho detto, con chiede esterno. Attenzione che la situazione della Juve attualmente in attacco dice Leggasi Alvaro Morata, contatti avviati con l'Atletico seriamente. Vediamo se la Juve a fine mercato riuscirà a riportare Alvaro Morata dove c'è il suo amore. L'Italia, la Juventus, in questa situazione attualmente che c'è. Fascia sinistra, tutti ci chiediamo, ma sta fascia sinistra, Alexandro, dicevamo proprio all'inizio, che fine farà Alexandro? Alexandro, quella non se ne vuole andare. Deve arrivare a un miracolo, come ho detto, il miracolo che avverrà che qualcuno ci fa un'offerta su Alexandro. La Juve lo vende. Bene, la Juve non rimane ferma, perché la Juve ha dei nomi per la fascia sinistra, che sono i soliti Udoji, che non muore mai la situazione Udoji. Emerson Palmieri, che rimane sempre viva. E poi c'è un giocatore dell'Offenheim, che si chiama Raum. Spero che lo sto pronunciando bene. Raum. Sempre per la fascia sinistra. Ma attenzione, signori miei. Uscite. La Juve oggi è prigioniera. È condizionata, non economicamente, ma condizionata a livello di spazio. Se non liberiamo lo spazio, rimaniamo, purtroppo, in certi reparti così fermi. Lo so, state dicendo, ma alla Juve manca il difensore. Io penso che la Juve interverrà anche in difesa. Ma deve uscire qualcuno. E questo qualcuno ha il nome di Rugane. Ma se Rugane non esce, perché la Juve attualmente guadagna i suoi 3 milioni di euro, chi glieli dà? Chi lo muove? Chi lo muove? Perciò, signori miei, anche in difesa la Juve vorrebbe prendere qualcuno. Ma deve mandare via qualcuno. La Juve soldi ce l'ha per andare a bussare come ha fatto Coltoro. Poi 50 milioni. Tiene, tiene, che prendo Bremer. In quel ruolo è andato via d'elite. Ora, se non va via qualcuno, non entra qualcuno. In nome di Uscita rimangono quelli, come Rugane, Alexandro, Perlegrini. Quindi, Arthur, Rabiot, che anche che vi dico che Rabiot è il preferito di mister ad Allegri. Perciò la Juve sarà l'ultima opzione per far spazio al centrocampo per un'eventuale cessione di Rabiot. Perché rimane sempre viva anche Paredes. Perché Paredes rimane in una situazione veramente viva e costante per la Juve. Con l'uscita di Ramsey la Juve può aggiungere tranquillamente Paredes. Ma siamo sempre lì. Siamo sempre lì. La Juve spera che ancora qualche uscita per far rientrare qualche soldo, risparmiare qualche soldo, per investire qualcosa in più. E voi mi state dicendo, perché Paredes non Milinkovic Savic? Perché Milinkovic Savic ad oggi, ve lo dico con la penna in mano, rimane un sogno. Però che può diventare realtà se la Juve così dall'oggi a domani riesce a vendere. Arthur rabbiò in un colpo solo, così, ed entrano dei soldi. Allora la Juve può investire. Ragazzi, prima che ve lo dite voi ve lo dico io attualmente. Quel nome di Milinkovic Savic non è una suggestione, è un sogno. Signori miei, vi ho fatto la situazione attualmente con la di calciomercato. Ve l'ho descritta per bene. Bene, aspettiamo, preghiamo i nostri santi, preghiamo la Buon Maria, preghiamo la Madonna del Carmelo, sperando che si fa qualche cessione e la Juve può continuare nel suo giro di acquisti del mercato. Auguriamo tanta fortuna a Pulpogba che ne ha tanto bisogno, che torni presto. Non mi resta altro che augurarlo a tutti, come sempre. Buona Juve, io vi voglio bene, vi auguro sempre, sempre di stare bene in queste vacanze calde estive. Anch'io attualmente sono nella mia Sicilia, non c'è il mio sfondo, però sono sempre con voi, perché Beppe Fra Capane va in vacanza, BJ24 Live con Maglia del Cuore, sono sempre qui con voi a darvi le notizie, come ve lo dico sempre in siciliano. Anzi, prima che ve ne vado fermi tutti, vi ricordo sempre di seguirci su tutti i social, tutti i social, Instagram, Facebook, TikTok, siamo pure su Twitter, tutto. Seguiteci, BJ24 Live e Maglia del Cuore. Signore e signore, io mi ne vaio, ossa benedica a tutti e mi raccomando, pregate i santi, la Madonna è chi che sia che vendiamo a qualcuno. Ciao!